L'ultima domanda che ti vorrei rivolgere prima di passare alle domande degli utenti è, allora ecco, domanda lo migliore di euro Matteo, come rendere felice il partner e come essere felici nelle relazioni di coppia? Ti ho appena risposto, sono 30 minuti di monologo. Allora, il concetto è, allora, trattare l'altro come l'altro vuole essere trattato, ok? E non come vorresti essere trattato tu, punto primo. Come si fa questo? Si fa parlando di, partendo da ascolto e comprensione, quindi senza dare per scontato l'altro, ma anzi cercando di capire quali sono i suoi bisogni e cercando di avere una progettualità condivisa e uno sbilanciamento quotidiano alternato, cioè l'appoggiarsi reciprocamente l'uno all'altro e in questo balletto costante che poi si chiama coppia o vita di coppia. Come essere felici? Sicuramente trovando un partner che fa la stessa identica cosa, quindi che è votato e che comprende qual è il vantaggio, no? Che avere una relazione comporta prima di tutto a se stesso. Dall'altro lato, siccome stavamo facendo, siamo passati insomma dalla comune cattolica, tratta l'altro come vorrebbe essere trattato, poi siamo passati a domero, comunque insomma abbiamo fatto una deviazione veloce sulla mitologia, adesso torniamo, torniamo sul cattolicesimo. C'è un passo da qualche parte che dice, nella Bibbia mi viene da dire, che dice qualcosa tipo, oh signore come faccio io ad amar l'altro? E la risposta adesso è qualcosa tipo, devi smettere di odiar così tanto te stesso, ok? Cioè c'è un passaggio per cui per riuscire ad essere felici nella coppia è vero ed è fondamentale che prima di tutto si deve essere capaci di essere felici da soli, ok? Questa è una frase fatta, è un po' come quelle cose che ci si vede in spiaggia con scritto carpe diem sulla spaglia, piuttosto che sulla caviglia cogli l'attimo, eccetera, eccetera. Però è vero, cioè io sto bene con l'altro nel momento in cui già io ho trovato un mio equilibrio, cioè trovo la capacità di essere felice. Poi la coppia è tutelante perché nel momento in cui io sono felice con me stesso, sto bene con me stesso, diventa un circolo virtuoso, no? Quindi prendiamo un volano per il quale ad un certo punto tutte le buone sensazioni, le emozioni, la felicità vengono come moltiplicate all'interno di una relazione sentimentale. O nel momento in cui uno dei due crolla, proprio per quel equilibrio instabile o squilibrato che raccontavo prima, cioè quindi da moto perpetuo, nel momento in cui inciampa può essere raccolto, cosa che difficilmente da solo uno può fare, cioè è difficile raccogliersi da soli. Però il punto di partenza è chiaramente che entrambi prima di tutto stiano bene, cioè stiano in una condizione in cui ricevono danno, ma potrebbero stare comunque bene da soli. Cioè io sono abbastanza un promotore del, per stare all'interno, per stare bene all'interno della relazione di coppia, devi bastarti. Cioè devi imparare a bastarti. Nel momento in cui ti basti, allora ottieni ciò che l'altro ti vuole dare. E poi tu lo puoi dare a tua volta. Quindi possiamo aggiungere anche questo al cosa mi… Quali sono gli elementi fondanti della coppia, cioè essere capaci di bastarsi. Perfetto.